segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te questo che tiene in mano il suo curriculum sì sì io sono stata licenziata un po di anni fa sto cercando qualcosina insomma per arrivare alla pensione dice quanti anni ha signora 59 curriculum alla mano e grandi speranze ci sono disoccupati di tutte le età alla 58esima edizione di io lavoro a torino la fiera che mette in contatto chi cerca e chi offre un impiego io accompagno mio marito mi do un'occhiata perché io ero disoccupata prima di prima del parto lo sono ancora mio marito lavorava come commesso in un tabacchino e laureato in economia come per una famiglia giovane non avere lavoro bene porto un sacco di pensieri però rimetto di nuovo in gioco e vediamo cosa succede oggi con questo incontro sono ricercati circa 6.000 posti per circa 2.000 profili professionali quanti over 50 sono alla ricerca di lavoro sono parecchi io ne ho 54 55 fa tra un pochino mi sto cercando di insomma aggiornare sto facendo dei corsi ma insomma non è assolutamente facile che lavoro ha fatto io ho lavorato prettamente per conto mio sia come autotrasportatore che come come commerciante perché adesso cerca lavoro perché ho chiuso attività due anni e mezzo fa lasciamo vittorio al suo colloquio e conosciamo Enzo che invece ne ha appena finito uno come è andato il colloquio bene bene sto facendo un giro da diversi giri a stamattina quanti colloqui ha già fatto e parecchi parecchi almeno una quindicina quante delle persone alle quali ha fatto i colloqui le hanno detto di percepire il reddito di cittadinanza un paio un paio e sì che sono immediatamente disponibili al lavoro e quello che ho notato è molta voglia appunto di rientrare nel mondo del lavoro ecco anche rosi sta finendo il suo colloquio 58 anni e disoccupata da sei mesi ho percepito un po di naspi adesso a naspo infatti a gennaio riproveremo di nuovo con il reddito di cittadinanza ammesso che sia ancora in invalidità però lei in età da lavoro è lo so però che mi trovi nel lavoro io non dico di non lavorare perché anzi stare a casa io non sono mai riuscita iniziate a lavorare che avevo 15 anni se mi chiamano domani vado domani è il problema che non ce n'è il lavoro